Lotto Sport Stadio Gold 50 anni la storica compagnia sportiva italiana, fondata 1973 nel distretto Calzature di Montebelluna, specializzato in calzature e abbigliamento sportivo, celebra 50 anni e attività 2023 anni. Una storia fatta campioni, artigiani e realizzati in Italia, che per l'occasione trova forma con un'edizione esclusiva di quattro modelli iconici del marchio che sarà rivelato durante l'anno, per raccontare la relazione unica tra il marchio Losangahete Sporting World di calcio e tennis. Per aprire percorso celebrativo per il cinquantesimo anniversario del Lotto sarà rilascio dello Stadio di 50 anni d'oro, un'esclusiva calzatura numerata e in edizione limitata, che rende omaggio alla scarpa indossata da alcuni dei più grandi campioni della storia del calcio, tra cui Andri Gevenco, Cafu e Carlo Ancelotti. Un vero cimeio da collezione, progettato come omaggio allo sport molto amato dagli italiani all'impatto che il Lotto aveva nel settore, fatto per l'occasione 500 pezzi cui tomaia pelle, la sua lazzincata e grafica stampata vivono un combinazione di colori oro-neri. Il luccicante Losangah è inevitabile che, insieme ad altri dettagli come le bandiere di tessuto italiano cucite sul retro e il logo lasrato sulla tomaia, ha creato ad hoc per l'anniversario, diventano elementi distintivi che dicono all'italiano lo snollo come. Lo Stadio d'Oro sarà presentato in uno speciale imballaggio celebrativo, che conserva il prodotto mentre diventa l'espositore di un oggetto che troverà spazio nel cuore di collezionisti e fan. L'edizione limitata esclusiva sarà disponibile online e fino a esaurimento, nonché in i negozi principali dedicati al calcio. Nei prossimi mesi Lotto Sport Italia rivelerà gli altri tre modelli celebrativi progettati dai progettisti Sport System Montebelluna per celebrare i 50 anni dell'azienda due versioni modelli calcio, tra cui una nuova edizione Zero Gravity, model senza lacci brevettata da Lotto in 2006 e una versione vintage un modello iconico ispirato al mondo del tennis, per ricevere molte notizie consigli utili in particolare sul mondo delle auto e delle motociclette, sulle telecamere su come difenderti dalle Truffe, puoi registrarti gratuitamente presso il Daily Motor Channel su Telegram. Ti invitiamo a seguirci Google News su Flipboard, ma anche social media come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esita a condividere le tue opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli.